Ed eccoci qua, nuovissima opportunità di guadagno e nuovissimo airdrop da prendere tutto in maniera totalmente gratuito oggi analizzeremo il progetto come prendere questi 5-6 euro totalmente gratis che potrebbero scoppiare nel corso del tempo anche a 100-200 euro, non ci sa ragazzi quello che sia mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti attivate la campanella, lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro se mi piacciono questi contenuti e appunto scrivete sul gruppo Telegram se avete qualche domanda e risposta allora andiamo ad analizzare il contratto, il sito in questione il sito in questione si chiama LunaPad ragazzi è un launchpad innovativo per lanciare nuovi progetti sul sistema TerraLuna quindi si basa sulla criptomoneta TerraLuna e si chiama esattamente LunaPad quindi praticamente basa sull'ecosistema TerraLuna che vi ricordo ragazzi TerraLuna è una criptomoneta ad altissimo progetto potenziale è un progetto veramente alto la criptomoneta si basa sulla rete SmartShane quindi ha le commissioni veramente basse questa ragazzi è l'uso del progetto, l'uso della carta di credito, la pianificazione informazioni su LunaPad, presenta la tecnologia di trasformare poiché l'adozione, vabbè, comunque trasforma ragazzi tutte le cose questa è l'altra proporzione, qui trovate il contratto praticamente qui ci dice che un BNB equivale esattamente a 24.000 LunaPad però ovviamente a loro stima un gettone danno questo, raccolta di fondo, eccetera questo è tutto l'ecosistema, liquidità qui è, approssimamente ci sarà l'applicazione, il sito web e qui fa vedere esattamente è nato il tutto ad ottobre 2021 quindi è una piattaforma nuovissima ad ottobre ragazzi hanno già, si è fatta la comunità ad ottobre, siamo sempre ad ottobre, comunque siamo a fare lo staking e tutto il resto è già messo in listato attraverso PancakeSwap e BLL BigBank che sono due exchange al 100% di figuri questo ragazzi ovviamente primo novembre ci sarà il secondo e tutto il resto e poi a dicembre ci sarà sia il wallet app sia che sarà listata, cioè no, già listata ci sarà il wallet app, via quindi per ora tutto perfetto, ok? l'unica cosa c'è da dire ragazzi ovviamente sono piattaforme che nascono così per supportare Terra Luna bisogna vedere nel futuro se andranno a buon fine quindi mi raccomando non investite ma nulla prendetela solamente in maniera gratuita perché ovviamente il sistema è quello che è si vede già da questo che è un high drop fatto diciamo non tanto bene è un high drop che deve scoppiare se il Terra Luna, comunque se il progetto Terra se il progetto questo va a buon fine quindi non investite mai prendiamo solamente in maniera totalmente gratis allora cosa c'è da fare ragazzi? qui trovate tutti i link in descrizione che vi servono qui in basso troverete questa pagina, il contratto e tutto il resto andiamo a analizzare il progetto il progetto in questione come vedete si chiama già Luna Pad è già listato su CoinMarket, su Pancake e LB Bank qui c'è il sito, qui c'è il contratto vale esattamente 10 centesimi a criptomoneta voi riceverete più o meno 5-6 dollari di questa criptomoneta è nata esattamente il primo quando è nata, andiamo qua il primo 11-2021 quindi è nata esattamente il primo novembre è un giorno fa che è nata, oggi è 2 novembre è schizzata già a 13 centesimi un progetto nuovo quindi state attenti perché se sapete bene i progetti nuovi potrebbero risultare scam quasi fra un mese quindi state attentissimi di non investirci allora qui trovate tutto il contratto in una pad quindi andate su CoinMarket se cercate Luna Pad e Trattino che trovate tutti i link in descrizione quel contratto avete aggiungito su Trust Wallet e Metamask come sempre e siete a posto allora come prendere questo iDrop totalmente in maniera gratuita questo link in descrizione si chiama Luna Pad New iDrop ok praticamente ragazzi cosa dovete fare? lo facciamo insieme come sempre eccetera allora prima cosa da fare scrivi sul loro gruppo Telegram quindi andiamo sul loro gruppo Telegram ci iscriviamo join e siamo a posto carichiamo la pagina quindi leviamoci l'audio ok welcome no questo non è più LightDrop dove cazzo? dove sta? eccola qua fate done vediamo un po' se lo prende perfetto poi qui ci dice di followare il loro canale quindi lo facciamo direttamente con la qua è meglio followiamo sottoscriviamo e siamo a posto fate done vediamo un po' se ce la piglia please follow Twitter pagina ok mette il username quindi ragazzi followate poi vogliono il vostro username quindi followate qua andate sulla vostra pagina Twitter quindi andare sul vostro profilo copiare e incollare la vostra chioccia qui sotto sul vostro profilo ce lo copi e che lo metti poi fate dole o no questo che ho fatto? ho saltato un coso troppo veloce vediamo un po' se riesco a ripegliarlo vabbè non so cosa voleva non l'ho letto comunque voi fate tanto vorrebbe essere semplice qui ragazzi invece il vostro vostro wallet Bananth SmartShaping mi raccomando il vostro wallet o Metamask o Trust Wallet io uso Trust Wallet sezione ricevere o Metamask e andate a copiare e incollare l'indirizzo di Bananth SmartShane mi raccomando lo andate a copiare e incollate ora un secondo che lo metto io mi raccomando sezione ricevere per ricevere i vostri wallet attraverso la rete Bananth SmartShane eccolo qua è sempre quello ragazzi uso con Trust Wallet che secondo me è migliore anche meglio di Metamask a mio avviso cioè mi torna meglio a me lo metto lo copio e sono a posto eccolo qua ragazzi l'IDO poi è finito è veramente stato semplice finalmente non so che passaggio ho saltato però ve lo vedremo qui ci dice esattamente ragazzi che ricevi esattamente 10 in una pad attualmente in maniera gratuita questo è il contratto questo è questo è l'indirizzo del contratto nel vostro bilancio saranno accreditati dopo 6 ore quindi dopo 6 ore andate a vedere che ci avete questo era fra il link mi ricordo ragazzi il Light Drop sarà distruito a 5.000 persone per il top 100 per il top 100 di Refrain Link riceverò 500 una pad mi sembra quindi se siete fortunati riceverete questi 5-6 euro totalmente gratis in più ragazzi 500 pad se avete il Refrain Link se arrivate al top 100 quindi ragazzi spero che il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao